Presidente Genta, in tre giorni da Raffaello a Leonardo a San Ciro e a San Minovio per la Fondazione CRC, è l'arte ogni giorno più forte? Sì, siamo in attesa di ricevere in diretta, in atterraggio da Pechino, la Tavola Lucana, questa importante tavola attribuita a Leonardo, che certamente saprà essere un attrattivo ulteriore a quello che è la grande fiera del Tartufo d'Alba. La Fondazione con questa iniziativa dimostra di avere una grande attenzione alla cultura e riuscire a portare eventi di carattere internazionale, sono certamente uno sforzo di carattere economico che però viene ricompensato dalla frequenza dei visitatori che si preannuncia certamente molto importante. Lei è un grande appassionato d'arte, quindi la sua impressione, il suo parere su quest'opera? Ma ecco, questi si sono già espressi i più grandi critici d'arte, i più grandi studiosi. Certamente è ormai assodato che questa tavola è dell'epoca di Leonardo. Le somiglianze con altri tratti che si possono riscontrare in altri dipinti di Leonardo c'è certamente, ma lasciamo un po' questa aura di mistero che fa sì che anche il visitatore possa dare la propria opinione. Grazie mille.